Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, quando una perturbazione a carattere freddo farà il suo ingresso sul Mediterraneo e scopriranno rovesci temporali su molte zone del centro-sud. Sarà una giornata molto dinamica, in particolar modo proprio sulle regioni meridionali verso la serata. Nel dettaglio possiamo notare questa circolazione di bassa pressione alimentata d'aria fredda scandinava e la formazione di rovesci temporali in mattinata sul nord-est e poi in centro-sud. Nord-ovest che ha bisogno di acqua praticamente quasi del tutto saltato. Uno sguardo alla mappa dell'Italia con variabilità e dei piovaschi in mattinata e primo pomeriggio sul nord-est, poi qui migliora, e poi la formazione del minimo di bassa pressione al centro-sud con delle precipitazioni a macchia di ghepardo e dei fenomeni anche tra Sardegna e Sicilia con venti forti. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.